L'8 novembre del 1960 sembra iniziare un'era perché è l'era di JFK, di John Fitzgerald Kennedy. In realtà diventa un'epoca molto breve perché finirà poco più di tre anni dopo, il 22 novembre del 1963. Però è l'era del cambiamento, è l'era dell'uomo bello, ricco, che a 43 anni diventa il 35esimo presidente degli Stati Uniti e che porta il progressismo alla Casa Bianca. E certo ci sono anche mille ombre sulla sua storia, ci sono ombre sul suo tentativo di far fuori in tutti i modi Fidel Castro, anche sull'inizio della guerra del Vietnam che è legata, ahimè, alla sua presidenza. Però è l'uomo che lotta contro le disuguaglianze, è l'uomo che lotta contro ogni discriminazione, contro ogni disparità, è l'uomo che di fatto si mette di traverso rispetto a ogni legge razziale. Tanto che è lui che lotta per far liberare Martin Luther King, che era stato arrestato con un pretesto. Ed è lui soprattutto che cerca di dare all'America una nuova immagine, una nuova impronta. E' lui che è appunto bello, ricco, famoso, di buona famiglia, in realtà cerca fin da subito di occuparsi degli ultimi. E la storia certo ricorda il suo assassino, ricorda le fanciulle, a cominciare da Marilyn Monroe, che caratterizzarono un pezzo della sua vita. Però ecco, a distanza di quasi 60 anni, è giusto ricordarsi quel nuovo vento che portò in America John Fitzgerald Kennedy. E quel vento iniziò proprio in quel novembre del 1960, quando per non tantissimi voti riuscì a sconfiggere Nixon e a portare una nuova America democratica sullo scenario del mondo. Grazie a tutti.